Successivamente, la campagna in onda del Partito Nazionale Fascista. Il discorso è il signor Benito Mussolini. Dell'impero e del regno d'Alberia, ascoltate. Ora, segnata dal destino, fatte il cielo della nostra patria, delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente che in ogni tempo hanno ostacolato la marcia e spesso insidiato l'esistenza medesima del popolo italiano. Alcuni lustri della storia più recente si possono riassumere in queste parole frasi, promesse, minacce, ricatti e alla fine, quale coronamento dell'edificio, l'ignobile assedio societario di 52 stati. Siamo decisi ad affrontare i rischi e i sacrifici di una guerra gli è che l'onore, gli interessi, l'avvenire, ferreamente lo impongono poiché un grande popolo è veramente tale se considera sacri i suoi impegni e se non evade dalle prove supreme che determinano il corso della storia. Noi impugniamo le armi per risolvere dopo il problema risolto delle nostre frontiere pimentali il problema delle nostre frontiere marittime vogliamo spezzare le catene di ordine territoriale e militare che ci soffocano nel nostro mare poiché un popolo di 45 milioni di anime non è veramente libero se non ha libero cesso l'oceano. L'Italia proletaria e fascista è per la terza volta in piedi forte, fiera e compatta come non mai la parola d'ordine è una sola categorica e impegnativa per tutti essa già trasvola ed accende i cuori dalle Alpi all'Oceano Indiano per dare finalmente un lungo periodo di pace con la giustizia all'Italia all'Europa al mondo vincere! all'Italia